Io vivo qui a Daliaro da ben 44 anni, quindi ho avuto modo anche di poter conoscere Carlo Remy qualche mese prima che morisse e quindi veramente italiano, l'ho incontrato, l'ho accompagnato e mi sono anche divertito a fare qualche domanda su quanto lui ha scritto, per esempio sulle persone che lui dice che erano mezzi animali e mezzi cristiani e lui mi dice che non l'ha visto. Allora gli dice ma perché l'avete scritto? Perché me l'hanno detto gli altri? E' come dice allora quello che lui scrive, senz'altro descrive una realtà di sottosviluppo, di sottocultura, ma allo stesso tempo un po' l'abbò confiata, ma lo scopo suo non è stato quello di sparlare del popolo lucano che l'ha ospitato e lui ne è riconoscente, ma soprattutto per lanciare una forte denuncia verso quella situazione di sottosviluppo economico, sociale e quindi dimostra come Carlo Levi è stato molto sensibile a saperleggere e immediatamente questa realtà. Carlo Levi è morta a Roma, qui hanno fatto le onoranze dei Cibini e dopo tre anni Francesco Rossi ha voluto girare il film sul suo libro, tradotto in ben 37 lingue, e nel momento qui è venuta una truppa di un cast di attori molto famosi, Ben Alisi, Irene Papas, Giammaria Volontè, io stavo qui quindi ho seguito molto, anzi poi quando è stata da Lianello mi chiese la consulenza per l'aspetto religioso della messa di Natale e così via, quindi ho avuto modo di incontrare questi artisti, parlare con loro e quindi anche che cosa erano pensando, quella realtà che lo aveva descritto, ha denunciato e che loro cercano di riproporre sullo schermo. Francesco Rossi è senz'altro, ho ricordo particolare, sia durante la ripresa di alcune scene nella chiesa e poi anche dopo lui è ritornato qui a Biscina Aureliano, gli abbiamo dato la cittadinanza onorale, non solo ma anche la terza edizione premio letterario nazionale che lo aveva, è stata assegnata a lui e quindi abbiamo mantenuto questi rapporti di amicizia diciamo anche storica e abbiamo rafforzato il mamma durante fino a qualche mese prima che morissi ci siamo sentiti. Ben Alisi Maria Volontè a me mi ricordo che si scocciava di girare tante volte, quindi sappiamo benissimo che quando si gira sono costretto a rifare una volta, due o tre, come anche la Irene Papas che girava per il corso a piedi nudi, mezzo diciamo nuda, con molta disinvoltura. Poi anche questa certote francese che ovviamente soprattutto nella chiesa di Alienello ho assistito, ho seguito e quindi ho cercato di rivivere quello che Carolevio parla del prete Don Traiele nel suo libro. Ma guarda, il sud anche si viene considerato come una realtà di sottosiluppo anche economico, però il sud è ricco di valori, quei valori che stranamente si vanno dimenticando ma bisogna riscoprire, perché quando noi parliamo una città contadino significa una città di arretrata, significa una città ricca di valori, la solidà, l'amicizia, il rispetto, la disponibilità e sono cose di cui abbiamo tanto bisogno, anche per un futuro migliore, perché se uno dà soltanto spazio all'aspetto economico sappiamo che il posto di iso non fa che scherciare l'uomo, lo distrugge, lo spersonalizza. Quindi il messaggio leviano è sempre di grande attualità e quindi in quel modo si ricollega anche all'umanismo integrale di Maritene. L'uomo ha esigenze fisiche, materiali, ma anche esigenze spirituali e la città contadino è un richiamo forte sotto questo aspetto. Però il messaggio leviano, visto questo fuori dalle righe, è pure molto socialista, no? Ah, socialismo, sicuramente che è vicino all'uomo, ma non è una novità perché prima di Levi c'è stato Cristo. Che lo Levi non ha inventato niente, non è che ha imparato alla chiesa. Gesù è stato il più grande rivoluzionario della storia. Certo, certo, certo. Uno che prende, reagisce contro i domani. E questo è l'aspetto positivo di Carlo Levi, non fa che richiamare e ispirarsi a questo socialismo umano.